arriva la prime 4 plus white edition amici una nuova colorazione per la prime 4 plus così come era successo un paio di anni fa per la prime 4 una colorazione white edition ovvero tutta colorata bianca e allora andiamo a vedere amanti dell'estetica e soprattutto per chi fa matrimoni perché c'è proprio scritto sul sito ufficiale vedremo perché a questa colorazione bianca molto candida al limite del troppo elegante eccolo qua sito ufficiale e denon dj prime 4 plus special edition white disponibile in una colorazione bianca prime 4 plus white perfettamente indicata per qualsiasi situazione di matrimonio o evento mobile dove l'ultra pulizia estetica è apprezzata disponibile in tutto il mondo per i rivenditori denon dj prime 4 plus a quanto sembra non cambia niente anche perché la vediamo direttamente sulla pagina della prime 4 plus colorazione nera quella classica che è uscita l'anno passato e aveva sostituito la prime 4 con l'uscita della scorsa estate con questo restyling the new look real stem separation senza software amazon music e unlimited le jog wheel più ampie del 10 per cento i 16 slot sampler e i touch effects x y non da versione engine dj 3.1 che ormai è già superata e quindi permangono tutte le grandi funzionalità di questo controller autonomo a quattro deck stand alone con display multi touch 10,1 pollici streaming per un sacco di roba milioni di brani tra cui come detto amazon music tidal beat source beatport dropbox soundcloud go plus campionatore con 16 slot di campionamento attivabili da pad routing separato delle uscite tra cui la famosissima uscita zone dove puoi collegare due tipi di musica se hai la necessità di andare a dividere il tuo dj set in un posto e in un altro quattro canali di ingresso assegnabili per le sorgenti esterne due microfoni indipendenti contro il cover ed eco alloggiamento per un hard disk sata da 2,5 pollici integrato per memorizzare tutta la musica i touch effects come detto poco fa per manipolare l'audio sull'asse x y i 26 main effects controllati dai parametri qua in alto e i quattro sweep effects che possono essere controllati dalle manopole sopra ogni canale e anche combinati con gli altri main effects controllo illuminazione dmx per philips u nano leaf quattro ingressi usb un sd analisi dei brani integrata anche per quelli in streaming all'interno della macchina 16 performance pad jog in display per le cover delle tracce registrature audio interno cross fader personalizzabile da tutti questi comandi supporta serato dj pro che sblocca l'hardware e virtual dj con licenza acquistata a parte tutte serato e virtual dj ovviamente non in modalità stand alone disegnata per dj che lavorano in situazioni mobile e situazioni proprio in questo caso da matrimoni perché insomma il bianco si intona molto bene con i matrimoni puoi gestire qualsiasi richiesta come vedete qua dal touch screen e qui vediamo anche la situazione degli effetti x touch effects x e y la possibilità di gestirla tramite i controlli lighting dal display direttamente della macchina i campioni gestibili anche questi all'interno del display della prime 4 plus e infinite opzioni di collegamento come la zona uscita dedicata da dove puoi gestire tutta la musica come dicevo magari se hai la pista principale gestita con una musica e magari la pista d'ascolto dove entra il pubblico o altre situazioni o un privé dove puoi gestire un altro tipo di musica indipendente serato dj e virtual dj in computer mode quindi non in stand alone lavorerà sia con serato dj sbloccando serato dj pro quando connesso e idem con virtual dj ma la licenza come vedete a pagamento e a parte e poi tantissimi servizi di streaming come elencato e già che ci siamo andiamo a ridare una spennellata alle uscite ai collegamenti con doppio microfono come potete vedere quattro ingressi in linea e due commutabili a fono e dove potete collegare anche i vostri giradischi o qualsiasi sorgente esterna stereo mono uscite xlr bilanciate e una zona non bilanciate e zona come detto per collegare in xlr bilanciato qualsiasi alta sorgente musicale da duplicare la vostra uscita la monitor boot out l'ingresso link l'usb e tutto quello che vi serve beh in questa colorazione bianca diciamo che tutto molto più bello così come era accaduto anche per i cdj pioneer ma anche per la stessa prime 4 che avevamo visto poco tempo fa nella colorazione bianca diciamo che diventa un pochino più cool un po più figa rispetto alla versione nera ma solamente per un discorso di estetica chiaramente perché queste macchine grosse queste stand alone un po grosse magari danno un po nell'occhio così bianca diciamo che la rende un pochino più fluida come possiamo vedere anche in alto la gestione della boot la gestione dell'usb tutto è rimasto invariato e solamente è stata data una rispolverata è un'edizione bianca a questa prime 4 plus che tanto vi piace adesso tocca a voi dirmi la vostra opinione qua sotto nei commenti come sempre possessori o non di prime 4 plus in modo da confrontarci su queste nuove uscite parliamo di corsi corsi per dj corsi di produzione musicale dove potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione con compilando il form oppure tramite le nostre pagine solda per chi sono indicati i corsi per chi inizia da zero e quindi vuole fare tutto il percorso per chi è già bravo e vuole migliorarsi e quindi oltre un tot non riesce ad arrivare e ha un tetto sopra la testa che non riesce a superare e per chi vuole fare il salto definitivo di categoria verso il professionismo consulenze su tutti gli argomenti trattati sul canale comprese le tematiche del suonare in regola che molti si avventurano a cercare in giro nei forum su altre situazioni su internet ma bisogna sapere la verità è detta bene perché altrimenti si rischia grosso oltre facebook e instagram c'è il nostro tiktok vai e seguici e anche la nostra community telegram se vuoi farne parte è tutto gratuito il canale youtube puoi iscriverti qua oppure abbonarti vatti a vedere il video per vedere come viene creata la corsia preferenziale tutto quello che puoi avere in più rispetto a un iscritto normale tantissimi video tutti in stile dj e produzione musicale dove potrai sicuramente trovare quello che vuoi comodamente anche perché tutto diviso in playlist dove ti puoi veramente sbizzarrire cercare solamente quello che ti serve se vuoi puoi aiutarci tramite sostieni ss4dj qui oppure qua sotto dove leggi grazie con il cuore vuoi essere informato su tutto quello che avviene sul canale quindi in tempo reale nuovi tutorial nuove recensioni nuovi spoiler e nuove dirette tutto quello che accade in tempo reale clicca sulla campanella e se vuoi puoi mettere un mi piace condividere con i tuoi amici inoltre c'è il nostro ufficio al merchandising con la linea anyway i play moda like suono solo quello che mi piace e la linea ss4dj ottimo white edition anche per la prime 4 plus amanti di day non dj ma anche no nel senso perché ci sono tante trasmigrazioni da altri brand verso questa macchina che diciamo ultimamente ha rasentato la perfezione per quel che riguarda le funzionalità e la versatilità per i dj mobile ma anche per chi suona nei club insomma una macchina molto molto utile bene fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti da parte di ss4dj e claude vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una bellissima giornata ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per poter crescere e darvi sempre tutte queste informazioni in anteprima in tempo reale per voi a gratis ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiri